Ben tornato, hai fatto tardi! Sono io, ho scoperto qualcosa che penso sia il caso di dirti. Ho chiamato a casa di Yoshizawa per provare a indagare, credono che sia un ritiro sportivo da ieri. Ma Ruki sta davvero modificando la nostra realtà fisica a suo piacimento? È inquietante? Sul serio, è la prima volta che assisto a un potere di questa portata. Persino i grandi ladri fantasma di cui vai tanto fiero sono caduti nella sua rete. Vuoi cercare di far cambiare la loro idea, vero? E va bene, immagino che ci servirà anche il loro aiuto. A patto che tu riesca a ricondurli alla ragione, si intende. Dipende tutto dalla loro capacità di abbandonare la realtà che si suppone abbiano desiderato per sé. Io mi occuperò di indagare ancora su Maruki, tu fa quel che devi. Grazie. Ricordi cosa abbiamo detto? Abbiamo stretto un accordo. Bene, ti contatterò in caso dovessi scoprire qualcosa. Buonanotte. Eh, Rakeci, sembrate andare d'accordo ultimamente. Ehi, stavo pensando, perché non le del fantasma non ce ne andiamo tutti alle terme? Così io e Lady Han potremmo... Che ne pensi? Sarebbe perfetto, eh? Dovremmo chiederlo al resto della ciurma. Invece di spiegarvelo a parole, vorrei che vedeste questa nuova realtà con i vostri occhi. So che i tuoi amici la stanno già apprezzando, Starkoon. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Morgana. Ok, meglio andare a Nanna per oggi. Ah, forse il letto inizia a essere qualcosa di troppo intimo per dormirci insieme. Bravo, ma va? Ah, beh, penso che comincerò a dormire sul divano. Sei felice? Eh? Questa da dove salta fuori? Beh, sì, direi che sono felice. Eravamo soliti dormire assieme, però. Già, ricordo ancora che detestavi quando mi acciambellavo su di te. Aspetta, mi acciambellavo su... Come cavolo facevo? Non ne sono convinto. Mi avevano catturato nel palazzo di Kamoshida. È stato allora che ci siamo incontrati. Quando entravamo nel memento mi trasformavo in... Continua a pensarci su. Ah, eh, ok. Ho avuto l'opportunità di rendermi utile per gli umani che ammiravano moltissimo. Nulla poteva farmi più felice. Che cos'era? Scusa, andrò fuori a pensarci su un per un po'. Dovresti dormire un po'. Però è carino Morgana in questo stato. Non posso fare altro che aspettare. La nostra popolarità è rimasta comunque qua. Maruki ha detto che i vostri amici la stanno già apprezzando. Dovrei andare da loro. Devo andare alla ricerca di tutti quanti allora. Dove sono finiti tutti? Meglio cercarli mentre esplorono la città. Va bene, andiamo per la strada. Facciamo un passo alla volta. Parla con i compagni di squadra. Tra l'altro non possiamo usare il teletrasporto. Dobbiamo camminare per ogni singola area che abbiamo già visitato fino ad ora. E' carino questa cosa che non ti fanno usare il teletrasporto. Ti fa... Come posso dirlo? Valutare tutto. Ti fa valutare veramente tutte quante le opzioni di visitare ogni singolo luogo. Iniziamo andando nel supermercato. Ci sarà qualcuno qui. Di solito... C'è sempre Ann. Oh, ma guardala. È in compagnia. Oh, Shio. Oddio, Shio. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ed è tutto grazie al tuo sostegno, Ann. Lo apprezzo molto. Oh, non ho chissà quali meriti. Hai continuato a dare il massimo. Finalmente ti viene riconosciuto. Oh, Phoenix. Non ci credo. Siamo qui. Che coincidenza. Ed è un bel pezzo che non vedi Shio o sbaglio. Non ci vediamo da un po', Starkoon. Ti ricordi di me? Come stai? Sto bene, grazie di averlo chiesto. Mi sorprende che tu ti ricordi di me. Visto che ho cambiato scuola all'inizio del quadrimestre, non siamo riusciti a parlare molto. Ma certo che ti ricorda. Deve ricordare, altro che... Gli ho sempre descritto la bravura della pallavolo della mia migliore amica. Oh, Ann. Scusa per averti fatto passare tutte quelle cose, Starkoon. Ah, sai una cosa? Shio è stata MVP della partita l'altro giorno. MVP è tipo il miglior giocatore, non lo so. Non solo era tra i titolari, ma anche fatto i punti di tutti... più punti di tutti gli altri. Non mi meraviglia che sia la star della squadra. Sono così fiera di te, Shio. Oh, sei troppo buona. Quelle due sono raggianti. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Ann. Ah, già. Così dimenticavo. Shio tornerà nella nostra scuola. Tutto il mondo della pallavolo sa che la Shugine è la scuola migliore per lo sport. È così che ho convinto i miei a trasferirmi di nuovo, dopo una marea di suppliche. Era così triste quando la sua famiglia si trasferì. Ma tutto è bene quel che finisce bene. È come se tutto fosse perfetto. È tutto come lo desideravi? Ah? Quello che desideravo? Beh, diciamo di sì. Preferisci tutto così? In questo modo? Voglio dire, tu e Shio siete qui e va tutto alla grande. Di sicuro è meglio dell'alternativa come quando... Aspetta, cosa? Io... C'è qualcosa. Ricordo che ero così disperata che desideravo morire. Ma poi ho incontrato voi e... Ti aspetterò. Ma che cosa... Shio è ancora viva, anche dopo aver sopportato tutti quegli orrori che l'hanno spinta al suicidio. Non ha alcun diritto di fuggire. Ho i brividi per tutte queste scene. Eh? Volevo... Anna, che succede? Stai bene? Oh, sto bene. È solo che mi sento un po' stanca. Perché non troviamo un posto dove sederci e rilassarci un po'? Scusa, Theonix, ti chiamerò più tardi. Ci vediamo, Starkoon. Ciao, Shio. Che caruccia lei. Non posso fare altro che aspettare. Devo tornare a casa. Beh, il nostro primo confidente di oggi l'abbiamo trovato. Anna sembrava felice di essere con Shio, che poteva ancora giocare a pallavolo. Ma le cose stanno davvero così. Domani dovrei andare a cercare gli altri. Un giorno a persona, diciamo. Vabbè, non è che potevamo fare tutto assieme, no? No, no. Va bene, uno a persona. C'è qualcuno da cui non sono ancora andato. Dovrei vedere come sta. Chi nello specifico? Te ne mancano tanti, in realtà, eh? C'è Morgana. Forse lui sa dove sono gli altri. Ehi, Morgana. Eh, sto cercando qualcuno. Aru, sta pensando di aprire un negozio a Kikyoji. È andata a fare un sopralluogo con il presidente. Sembrava molto contenta. Deve essere così indaffarata. Ah, scusa. Hai bisogno di altro. Vorrei stare un po' da solo. E giustamente Morgana sta guardando un gatto. Eh, vabbè. Dovremmo andare a Kikyoji, allora. Oppure potrei continuare a cercare i miei amici così. Makoto, ciao. Ah. Ah, Fionix. Che coincidenza. Stavamo facendo un po' di shopping. Ma presto festeggeremo nostro padre per la vittoria del primo e del sovraintendente generale. Incredibile. Su, Makoto. Non c'è bisogno di alzare la voce. Ricorda, papà prima ti ha detto di comportarti come se nulla fosse. Scusa, non posso farci nulla. Sono davvero emozionata per lui. È come se stesse finalmente ottenendo il riconoscimento che merita. Beh, la penso anche io così. Allora, che ci rimane da comprare prima di tornare a casa? Mi chiedo se a papà piacerebbe se cucinassi io. Per il suo compleanno ho preparato la zuppa di miso con le melanzane. Nella tua vuole sgombro fritto, vero? Ricordo anche quando hai tormentato papà finché non te l'ha preparato. Sorella, non l'ho assillato. Mi hai chiesto cosa volessi mangiare per il mio compleanno. Sembrano molto felici i loro due. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Makoto. Tra l'altro, Fionix, come mai sei qui? Scusami se ti sto trattenendo. Va tutto bene, non ti preoccupare. Sei sicuro? Beh, va bene. Ti piace stare in famiglia? Eh, beh, certo. E vostro padre vi supporta? Mio papà, certo. Ha fatto un ottimo lavoro da genitore singole. Aspetta, c'è qualcosa che non va. La mamma è morta e papà ci ha cresciuto da solo. E mia sorella, ti aspetto. Aspetta, che stai dicendo? Ma io non ho nulla da temere. Ho finalmente trovato il mio posto. Io? Makoto, che succede? Oh, no, scusa, non è niente. Scusa, Fionix. Dobbiamo finire di fare la spesa. A più tardi. Mi spiace, ci sentiamo più avanti. Non credo sia la realtà che abbia voluto solo Makoto. Ma sarà anche la realtà che ha voluto Nijima. Nijima maggiore. Devo tornare a casa. Queste giornate volano così velocemente. Il santuario per Capodanno. Ma non ho alcun desiderio. Non è carino il mio cane? Con chimone che è Anaka. Ehi, ma il tuo cane? Oh, non importa. I soldi di Capodanno. Li userò per la mamma, ovviamente. Devo far controllare il mio lavoro al mio insegnante del più presto. Bravissimo. Makoto sembrava felice di avere potuto trascorrere del tempo insieme al padre e alla sorella. Ma le cose stanno davvero così. Domani dovrei andare a trovare gli altri. Andiamo a cercare gli altri. A chi tocca questo giro? C'è qualcuno da cui non sono andato? Da chi potrei andare oggi? Non c'è più nessuno qui a Shibuya. Proviamo ad andare da un'altra parte. C'è qualcosa di strano sulla mappa. Allora, abbiamo Akiabara e la scuola. Proviamo ad Akiabara. Vediamo se c'è qualcuno. Oh, c'è sicuramente qualcuno. Guardala in fondo. Ehi, è la mia ragazza. Oh, delle Lucky Bag. 5.000 yen. Ehi, Google. Quanti euro sono 5.000 yen? L'importo di 5.000 yen giapponesi equivale a 37,82 euro. 3... Quasi 40 euro di Lucky Bag. Beh, spero ci siano dentro bei giochi almeno. Ehi, Futaba. Pensavo fossi venuta qui per comprare un videogioco. Ma, ma... Non senti quest'atmosfera? Tutte queste edizioni limitate, gli accessori da gioco. È colpa del negozio. È una manna dal cielo per noi giocatori. Quindi, mamma... No, signorina. Pensi che posso ottenere altri finanziamenti facendo gli occhioni dolci? Mozione per ottenere più fondi negata. Ah, il mio caso è stato archiviato. Ah? Phoenix? Mi dai tu i soldi, per favore. Con quel cappello nero e la giacca nera, Sojiro sembra Jigen. Oh, guarda un po' in chi siamo incappati. Su, sbrigati e scegli qualcosa. Puoi pranzare dopo, giusto? Puoi venire anche... Può venire anche lui. Oh, che gentil'uomo premuroso. Hai sentito Futaba? Sojiro ci offre il pranzo. Ehi, non mettermi in bocca a parole. Davvero? Tutte le blanche, ragazzi. È l'ora del curry. Oh, mangi sempre quello, però. Perché è buonissimo. Non riesci proprio a fare a meno di quel curry, vero Futaba? In effetti ha assolutamente ragione. Grazie per la recensione stellare. Questi tre scambiano grossi sorrisi. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Futaba. Che ne dici, Phoenix? So bene che apprezzi la bontà del curry di Sojiro. Si sposa alla perfezione con il suo caffè. Già, Sojiro l'ha fatto proprio per quello. E la mamma l'ha aiutata a migliorare il sapore. Eh? C'è qualcosa che... Non ti sembra un sogno bellissimo? Cosa vorresti dire? Dove vuoi arrivare? Un sogno? No, ma... Ti aspetterò, Futaba. Non capisco. Su, perché non me lo dice e basta? Non lascerò che quelle bugie distorte mi ingannino di nuovo. E quello cos'era? State bene. Mi state comportando in maniera strana. Che sia un caso di ormoni impazziti. Guarda quanto sono diventati seri. Ah, niente. Forza mamma, il curry non può aspettare. Phoenix ha degli impegni. Immagino... Beh, ci vediamo. Ehi, Futaba. Non andartene così. Beh, dobbiamo tornare. Qualunque cosa tu stia facendo, una volta finito, vieni a mangiare un boccone. Certo, so giro. Non posso fare altro che aspettare. Devo tornare a casa. In pratica stiamo tornando a casa mentre loro mangiano. Arriveremo lì, Futaba, che ci guarda. Non so cosa voleva, Phoenix. Vediamo cos'altro dice la gente. Lavorare, ho il giorno libero oggi. Non posso stare male quando ricevo una promozione. Non ricordo di aver mai avuto abiti così eleganti. Sembrano adatti a un lavoro notturno. Oh? Non lavori qui. Andiamo, so che lavoravi qui l'anno scorso. Prendiamocela con calma. Invece di impazzire per raggiungere le nostre quote, ok? Sta andando al lavoro. Pensavo avessi smesso. E invece magari vuole continuare. Futaba sembrava felice di avere potuto passare le giornate insieme alla madre e suo giro. Ma le cose stanno davvero così. Domani dovrà andare dagli altri. Beh, se la realtà è perfetta per noi, perché siamo ancora in una cazzo di mansarda e i nostri precedenti penali sono ancora lì? Maruki, non hai pensato proprio a tutto, eh? Vediamo, chi sarà il prossimo? Ci manca Ryuji, Haru e Yusuke. Dove possiamo andare questa volta? Ah, Ueno, dove c'è il museo d'arte. Vedo Yusuke lì in fondo. Sta osservando un dipinto. Cosa dovrei fare? Andiamo a parlargli? Ah, la Sayuri! Ah, ci sei anche tu, Phoenix. Stavo pensando di contattarti. Guarda. Il dipinto di mia madre sta finalmente ricevendo l'attenzione che merita. È esposto solo da questa settimana. Sono felice di poterlo vedere con te. Sono proprio fortunato. Ho aspettato a lungo di vedere questo dipinto. La voglia di creare un capolavoro analogo cresce giorno dopo giorno. Ma grazie al patrocino di Sensei, ogni giorno mi avvicino alla creazione di un'opera tanto dirompente. Nulla al mondo mi potrebbe rendere più felice di quanto non sia ora. Patrocini, oh? Ah, certo, il mio Sensei, Madarame. Dopo la morte di mia madre, Sensei non ha mai smesso di elogiare il suo lavoro in pubblico. Non solo, mi ha anche accolto e cresciuto quando ho perso la famiglia. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza. Yusuke è davvero felice. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Yusuke. Avere il riconoscimento del dipinto della madre e tornare da Madarame. Ho appena avuto una magnifica idea. Perché non viene a cena da noi? Sensei ha sempre desiderato incontrarti. Sì, tranquillo, penserà lui a pagare il conto. Madarame è un bravo Sensei? Certo che sì, ma questa storia così all'improvviso? La Sayuri sta benissimo qui. Sayuri? Quello non è il nome del dipinto. No, aspetta. Mi sembra... C'è qualcosa che non va. Ti aspetterò qui, Yusuke. Ma cosa? Sto forse commettendo lo stesso errore fatto in passato. Pensare che questo dipinto fosse la fonte dei desideri distorti di Madarame. L'unica consolazione che mia madre non saprà mai cosa è successo. Fionix, io... In effetti, mi spiace. Ma mi piacerebbe stare solo per ora. Non posso fare altro che aspettare. Torno a casa. Bene, mancano Ryuji e Haru ora. Vado in vacanza ogni anno, con la mia famiglia ovviamente. Torni a casa, quindi andrai a realizzare i tuoi sogni. Scuola? È divertente. Ho pure degli amici. Ma quel negozio non era fallito. Immagino di no. Le vendite non sono il massimo, ma mi sta bene così. Buon per voi allora. Yusuke sembrava felice che l'opera di sua madre, Sayuri, fosse stata riconosciuta come opera d'arte. Ma le cose stanno davvero così. Domani dovrei vedere gli altri. Solo due te ne mancano. E mancano solo altri due giorni. C'è qualcuno da cui non sono ancora andato. Dovrei andare a vedere. Proviamo ad andare a scuola. Magari troveremo qualcuno. Oh, ma guarda un po'. C'è qualcuno qua in fondo. Ehi, ehi, ehi. Vorresti dire che quell'università è interessata a te? Abbassa la voce, è deficiente. Non è ancora sicuro, comunque. Dico solo che la scuola è arrivata a una notizia di questo tipo. Comunque, che figata. L'altro giorno si è anche salito sul podio del campionato nazionale. Quando ti sei sfracellato il ginocchio, mi sono preoccupato. Sono contento di rivederti in forma. Dai, stai correndo un po' troppo. Sto solo facendo del mio meglio per non farmi prendere in giro da voi. Ryuji ride allegro con gli altri membri della squadra dell'atletica. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Ryuji. Che ci fai qui? La pausa invernale non è ancora finita. Ehi, magari è venuto anche lui a farti i complimenti, no? Già, qui abbiamo un personaggio famoso. Vuoi andare a mangiare da qualche parte dopo gli allenamenti? Oggi offriamo noi. Oh, grazie ragazzi. Che ne dite di un bel giodon extra large e di una zuppa di miso di maiale? Ehi, perché non vieni con noi, Phoenix? Sei felice di poter correre? Sì, certo, ma... Ehi, che c'è che non va? Quindi la tua gamba è a posto? La gamba! Oh, ti preoccupi! Va benissimo, Koso! Dall'infortunio non ho più avuto problemi! E ovviamente era tutta colpa di Kamushida, quindi... Aspetta, cosa? Non c'è qualcosa che non va! Come ci siamo conosciuti, comunque? Prima ci siamo incontrati davanti alla stazione vicino a scuola, poi... Ti aspetterò, Ryuji! Certo! Adesso mai più! Ci sono! Ah! Oh, che roba era! Stai bene, Sakamoto? Sì, che vi è successa la stazione, ragazzi? Oh, niente! Scusa, devo andare all'allenamento! Ci vediamo! Ah, non posso fare altro che aspettare. Devo tornare a casa. Beh, sono contento sicuramente per Ryuji, però... Beh... Kamushida l'ha sicuramente distrutto. La mia sorellina mi ha intimato di sistemarle il PC e è sempre stata prepotente. Studiare all'estero? No, grazie, qui mi diverto un sacco. Lavori in un made cafe? Wow, non l'avrei mai pensato conoscendoti. Ah, davvero, è il miglior lavoro che abbia mai avuto. I commessi qui sono sempre stati così amichevoli. Mi piacerebbe visitare quei luoghi. Ryuji sembrava sinceramente felice di aver potuto correre con il resto della squadra di atletica. Ma le cose stanno davvero così. Domani dovrai andare dagli altri. Una sola persona ti manca. Manca solo Aru ormai. Ehi, c'è Madarame qui! Incredibile! Ancora un ottimo lavoro, Madarame sensei. Un'altra mostra al completo. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con te alla prossima mostra. Non sarai mai riuscito a organizzare una mostra così straordinaria da solo. È stato possibile solo grazie al duro lavoro del personale dei miei allievi. Alla prossima mostra, tuttavia, mi piacerebbe esporre alcune opere del mio allievo al posto delle mie. Sul del suo allievo. Intende forse il liceale che era lì l'altro giorno? Esatto. Yusuke è il figlio di una mia allieva. Ha ereditato il talento naturale della madre. Purtroppo lei non è più in questo mondo. Ed è mio dovere far conoscere al mondo il talento di quel ragazzo. In tal caso ne parlerò immediatamente ai vertici. Oh, potremmo organizzare qualcosa. Magari un'opera commemorativa creata dal maestro e dall'allievo. Una collaborazione con Yusuke. Sì, credo sia una buona idea. Non vedo l'ora che la mostra sia allestita. Ah, sembrano tutti felici. Chissà dove sarà Haru con il padre. Eccola lì. Preside Okumura, salve. Ah. È una zona di passaggio molto frequentata. Sarebbe una posizione perfetta per il nuovo negozio. Ah, sono d'accordo. La ricerca mostra che la comunità apprezzerebbe molto degli ingredienti di qualità in un design moderno. Forse qui sarebbe meglio concentrarsi sui prodotti bio, con degli interni semplici ma elegani. Ehi, Haru. Oh, Phoenix-kun. Non mi aspettavo di incontrarti qui. Di che state parlando? Sto dando la mano a mio padre. Siamo qui per ispezionare una possibile sede per un nuovo spazio aziendale. È un tuo amico? Sì, è uno dei migliori che si possono avere. È un mio compagno di scuola più giovane. Oh, non pensavo avesse amici maschi, Haru. Siete davvero solo amici? Padre, non saltare a conclusioni afferrettate. Calma, Haru. Stavo solo scherzando. A ogni modo, dovesse comparire un uomo nella tua vita. Voglio che tu me lo dica subito. Intesi? Ah, padre. È gelosia quella che percepisco. Haru e suo padre si condono la reciprocola compagnia. A quanto pare questa è la realtà desiderata da Haru. È da molto tempo che non vedo Haru così. Devi essere proprio un buon amico. Continua a trattarla bene, ragazzo. Del resto, la felicità di mia figlia è la mia felicità. Come vanno gli affari? Non conosco tutti i dettagli. Sto solo dando una mano a mio padre. È spesso occupato, ma lo staff sta facendo la propria parte. Stanno anche cercando nuove sedi per l'attività. Complessivamente direi che sta andando tutto molto bene. Cosa farete dopo? Oh, beh, il prossimo passo sarà... Credo che lavorerò insieme a mio padre per aiutarlo. Che cos'è? Ho come la sensazione di aver dimenticato qualcosa. Ti aspetterò, Haru. Oh, ok. Che felicità può esserci nel profitto ottenuto schiacciando il cuore degli altri. Cosa? Quella cosa... cos'era? Haru, che problema c'è? Ah, niente, padre. Non è niente, davvero. Ti devi essere stancato dopo queste ricerche di mercato. Perché non facciamo una pausa? Scusa se taglio corto. Spero che in futuro riusciremo a parlare di più. Alla prossima. Che strano ragazzo. Ah, non posso fare altro che aspettare. Devo tornare a casa. E anche l'ultimo dei miei amici è stato trovato. Maruki l'aveva pensata bene. Eh, darmo. Sono io. Ho fatto un paio di scoperte durante le mie indagini questa settimana. Scoperte che penso di condividere con te. Cosa hai scoperto? La prima riguarda Maruki in persona. Fa ricerche sul trattamento dei pazienti attraverso i cambiamenti cognitivi fin dall'università. Lo sapevi già, dico bene. Me l'ha detto lui stesso. Pare che, visto il numero di investitori, avesse pianificato la costruzione di una base di ricerca. Ma, come sai, quel progetto non andò mai in porto. Gli tagliarono i fondi e la sua ricerca si arenò. È successo qualcosa? È probabile. Tuttavia, non possiamo essere sicuri del perché. Non con le nostre corree conoscenze attuali. Qual era lo scopo della ricerca sulla scienza psicognitiva? Non ti sembra che manchi un pezzo? Forse, ad esempio, qualcuno ha ostacolato la sua ricerca per motivi personali? A ogni modo, questo è tutto ciò che sono riuscito a scoprire sul passato di Maruki. L'unica cosa alla palissiana è la sua posizione dell'uso della scienza psicognitiva. Salvare il mondo. Ha distorto la realtà stessa per realizzare il suo sogno. Chissà come starà raggongolando. Ah, quasi dimenticavo. C'è un'altra cosa che ti volevo dire. Riguardo alla realtà in cui ci ha gettato Maruki. A quanto pare sia Wakaba che Okumura sono considerati vivi. In che senso? Non sono mere illusioni o creature cognitive. Sono vivi e vegeti in questo mondo. Infatti, sembra che in questa realtà le loro morti non siano mai verificate. E i ladri fantasma? Sembra che abbiano provocato grande scalpore nella società, proprio come nella nostra realtà. Ma solo Shido è stato arrestato per aver tentato di rovesciare il governo. In sostanza, in questa realtà, né io né te abbiamo commesso alcun crimine. Non ho idea di come Maruki sia riuscito a distorcere la realtà fino a questo punto. Ma quantomeno è stato onesto quando ci ha detto che avrebbe fatto queste... Comode modifiche. Che cosa ne pensi? Restare in questa realtà rivisitata equivale a rimanere per sempre sotto il gioco di Maruki. E io mi rifiuto di vivere così. Sarò io a scegliere il mio destino. Ho vissuto così fino a oggi e intendo vivere così per il resto dei miei giorni. Ma tu cosa intendi fare? Li hai visti, no? I tuoi amici sembrano essere affezionati alla realtà di Maruki. Non dirmi che hai cambiato idea dopo averli visti. Non preoccuparti. Sono intenzionato a salvarli. Capisco. Mi auguro di udire la medesima risposta domani, quando affronteremo Maruki. Bene, non ho altre informazioni da condividere. A presto. Ci vediamo domani. Era Kechi? Vai da qualche parte domani? Con Kechi allo stadio? Con Kechi? Ultimamente voi due andate d'amore d'accordo. Non c'è che sia... Non che sia una brutta cosa, anzi. Ehi, senti. Riguardo a quello che ci siamo detti prima. Ormai una settimana fa, Morgana. Sai, no. Quel discorso a proposito della mia felicità. No, niente. Scusa. Lascia stare. Buonanotte. Non sei scomodo. Domani incontreremo Maruki. Stasera dovrei andare a letto presto. Vuoi salvare i tuoi progressi? Sì. Bene. Da domani si torna anche a scuola. Sei venuto. A giudicare dal tuo sguardo, immagino che nessuno dei tuoi amici ci sarà di qualche utilità. Sono certo che verranno. Oh, certo. E scommetto che siete affiatati tanto quanto lo eravate prima che la realtà mutasse. Beh, non ha comunque il più senso lamentarsene ormai. Sei pronto? Come dicevo ieri, è probabile che dovremo affrontare Maruki in uno scontro fisico. Se non sei pronto per una simile eventualità, allora vedi di sparire alla svelta. Vattene fuori dal cazzo, ci penso io. Tanto, cioè, volendo, posso anche andare da qualche altra parte? Anche volendolo fare. Non ho accesso alla stanza di velluto per dire. Non è che posso cambiare le mie persone. Cioè, quindi se me ne andassi... Al negozio i Softair. Ah, posso andare a comprare le armi. Ok, Akechi, sono pronto. Sei pronto? Prontissimo. Ebbene, andiamo. Andiamo, Akechi. Mi scusi, c'è... Oh, ehi, ragazzi. Pare che abbiamo avuto tutti la stessa idea. Sei anche tu qui per parlare con Phoenix. Più o meno. Ma, quindi, non c'è? Se n'è andato circa mezzogiorno, dicendo che sarebbe visto con Akechi. Sojiro ha detto che possiamo usare questo posto se ci serve parlare di certe cose. Figo! Sapete, Phoenix me l'ha chiesto l'altro giorno. Qualcosa del tipo, se fossi felice della mia situazione. Lì per lì non l'ho colto, ma poi, man mano che parlava, mi si è come stretto il petto. So bene cosa intendi. Ed allora è come se... Come se qualcosa nel mio cuore non fosse più lo stesso. Io non mi lamento della mia vita attuale, anzi, tutto l'opposto. Sono veramente felice. Però, in tal caso, cos'è questa sensazione che avverto nel profondo della mia anima? Accidenti! Certe cose non le capisco proprio! Ehi! Non vi sentite come se stessimo fuggendo da qualcosa di super importante? Bravo, Ryuji! Oh, così si parla. È un pensiero che mi gira in testa da un po'. Forse le parole di Phoenix fanno... Fanno più male perché ha ragione. Ma avevo troppa paura di ammetterlo, per qualche motivo. Così ho finto di non capire. Mentre parlavo con Phoenix, è come se avessi intravisto uno scorcio dell'allucinazione misteriosa. Qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. Eppure, sento di non dovermi voltare dall'altra parte. È lo stesso per me. E anche per me. Si direbbe che dopo tutto abbiamo davvero perso di vista qualcosa di prezioso per noi. Meh, avete perso me. Sto andando a combattere una battaglia con Akechi e basta. Potrebbe essere. Ma... ma ho troppa paura di ricordarmi cos'è. Ho il presentimento che, se riuscisse a ricordare, la vita che ora conosco terminerebbe. Oh, Futaba. Però, nonostante tutto, non voglio nemmeno più sentirmi in questo modo. Anche io. Allora è così, eh? Phoenix stava cercando di dirci qualcosa di importante. E scommetto che non ha smesso di lavorarci. Non esiste che lo abbandoniamo solo per poter continuare a fuggire da... Qualunque cosa si tratti. Ho vissuto quella bizzarra esperienza di cui tutti avete parlato. Ho visto che eravamo qui con Phoenix. Io crede che il nostro legame sia autentico. Beh, io so solo che se non agiamo in fretta, finiremo per perdere il nostro legame con Phoenix. Non chiedetemi come lo so, ma sento che è la verità. È vero. Ammetto di essere felice adesso, ma... Non posso accettare la situazione così com'è. Ne ho abbastanza di fuggire dai miei problemi. Eh, la realtà si è spezzata, eh? Sono tornato gatto. Miau. Ah, che bello però. Ma che bello sto palazzo. Dobbiamo capire subito dove si trova Maruki. Non voglio perdere tempo a vagare senza meta. Abbiamo trovato una guida informativa dopo essere saliti su quell'ascensore. Se hai intenzione di accoglierci cortesemente, forse ci imbatteremo presto in un'altra guida. Ah, prima che me lo dimentichi. Temo che d'ora in avanti le battaglie risulteranno sempre più ostiche, visto che non abbiamo rinforzi. Concentrarci sulle nostre abilità va bene, ma a volte potrebbe essere più efficace fare squadra. La mossa combinata di prima non era affatto male. Oh, e abbiamo sbloccato il nostro speciale con Akechi. A patto che tu riesca a starmi dietro, naturalmente. Oh, Akechi, hai dubbi? E non possiamo usare lo spostamento rapido. Dobbiamo muoverci passo per passo. Buongiorno, entrate pure. Ok, arriviamo. Maruki, ci stai aspettando, vero? Beh, spero che allora tu ci darai un caldo benvenuto. Credo che fosse da queste parti. Pazienti VIP identificati, ora inizieremo la visita. L'auditorium è ora aperto. Il padrone vi attende là, con ogni paziente che cercate. Siete pregati di entrare dalla porta sul lato sinistro della sala d'ingresso. Come previsto, ci informo educatamente della loro posizione. Deve essere quella la porta, andiamo. Ok, andiamo. Dobbiamo salvare Sumire e fermare Maruki. Oh, ma guarda, nemici blu. Non mi dispiace fare qualche combattimento di tanto in tanto. Soprattutto perché questi nemici sono deboli alle mie tecniche. Beh, che dire. Una buona battaglia. Come sempre, visto che siamo uniti, Akechi. Oh, finalmente posso sfoggiare tutte le mie abilità magistrali. Tu cos'è che eri debole? Non mi ricordo. Ah, all'oscurità. Mettiti questo vandala, magazzo. I tuoi galoppini saranno anche potenti, Maruki. Ma io sono fin troppo preparato. Che bello combattere solo con Akechi, anche se alla fine stiamo combattendo solo noi. Ah, aspetta. Cosa che non ho fatto l'altra volta. A che livello sei, Akechi? 76. Beh, le tue statistiche sono abbastanza, diciamo, stabili. Credo che dovrò aggiustarti un attimo. Ti tolgo il distintivo e ti metto l'oliarco per il 7 bonus a tutte le statistiche. Eh, dai, già molto meglio, nonostante le evita attacchi fisici. Un po' inutile. Oh, una safe room. Ottimo. Abbiamo sbloccato la safe room. E ora continuiamo. Certo che questo luogo comunque è immenso. È molto più grande di quanto uno potrebbe mai aspettarsi. È assurdo, veramente. Hai proprio ragione, Akechi. Ma Ruki è senza dubbio più avanti. Preparati a dovere. Più preparato di così, credimi, non ce n'è bisogno. È la madonna. Grazie di essere venuti. Le hai fatto qualcosa? Sta solo dormendo. Non ho mai avuto intenzione di farle del male. Quando il suo tumulto interiore si sarà placato, le farò ricordare la vita che più desidera. La vita che desidera, eh? Chiamala come vuoi. Stai facendo il lavaggio del cervello alla gente per il tuo appagamento. So bene che le mie azioni verranno interpretate come così da alcuni. Ma se questo mio appagamento garantisce la felicità di mi Gyaia, non sarebbe un bene più superiore? Sarkun, se ho capito bene, hai fatto visite ai tuoi amici questa settimana. Questa è la realtà che tutti loro hanno sempre desiderato. Ma che ora hanno rifiutato, anche se noi non lo sappiamo. Vi è sembrato che questo fatto li torbasse in qualche modo? Dai, stai correndo un po' troppo. Sto solo facendo del mio meglio per non farmi prendere in giro da voi. Questa realtà è la più vera di tutte. Non dovete fare altro che riconoscerlo. Fatto questo, sarete felici quanto loro. Ancora non ve ne siete accorti. Loro non vogliono solo vivere queste vite. Desiderano che anche voi scegliate questa realtà felice. Te lo dico, hanno già rifiutato. Questa realtà. Ero così triste quando la sua famiglia si trasferì. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Ma grazie al patrocinio di Sensei, ogni giorno mi avvicino alla creazione di un'opera tanto dirompente. Vi prego, cercate di capire. Per il loro bene e per il vostro. Sono davvero emozionata per lui. È come se stesse finalmente ottenendo il riconoscimento che merita. Davvero? Tutti alle blanche ragazzi, è l'ora del carry. Tutti i momenti emozionanti. Lei pensa al carry. Non che pensa alla madre, no. Oh padre, è gelosia quella che percepisco. I miei amici vogliono restare in questa realtà. Non ne sono convinto. Mi avevano catturato nel palazzo di Kamoshida. È stata l'ora che ci siamo incontrati. Se entrassimo nel memento mi trasformerei in... Ma è davvero così? Beh, è ora. Se accetto l'offerta di Maruki, io e i miei amici potremmo vivere felici in questa realtà da lui creata. O almeno, così dice. Se rimanessi qui, condurremo davvero una vita felice, priva di dolore e sofferenze. Ma, per renderlo possibile i nostri ricordi verrebbero distorti, probabilmente è inevitabile. Per il bene di Yoshizawa-san e degli altri tuoi amici, voglio che tu mi dia una risposta. Accetto questa realtà o non posso accettarla? È ovvio. Non posso accettarla. Eh? Eh? A quanto pare le negoziazioni sono naufragate. Capisco. Si direbbe che non abbiamo ancora raggiunto un'intesa. No. Non dici sul serio, vero? Per favore. Ti scongiuro, Phoenix Senpai. Lascia che io viva come Kasumi. Non nasconderti dalla verità. Ma perché? Questo dolore è insopportabile. Perché non posso lasciarmi tutto alle spalle? Kasumi è perduta per sempre. Ed è tutta colpa... È tutta colpa di Sumire. Non posso vivere una vita simile. Oh, ti stai ribellando. Alla persona sbagliata però Sumire. Ti prego, non cercare di fermarmi. Se lo farai, allora io... Non farlo. Che pestarda. Può dirle ciò che vuoi, ma lei non riuscirà a comprenderti. Non dipende da noi, purtroppo. Potrei occuparmene io per te, qui e ora. Ma tu vuoi che esca viva da qui, giusto? Sbrigati e poniamo fine a tutto questo. Io starò qui a guardare. Se non intendi tirarti indietro, allora... Un combattimento uno contro uno, Sumire? Come vuoi. Non posso fermarmi. Mi rifiuto di vivere come l'assassino di Kasumi. Oh, Kasumi. Ah no, Sumire. Ribellati, Phoenix. Ti conviene fermarti finché puoi. Non hai la stoffa per potermi abbattere. Andala, Magatsu. Oh, ma guarda. In questo momento sei resistente, vedo. Mi dispiace. Sono troppo preparato anche per te, Kasumi. Concentrazione. Ops, mi dispiace. Perché mi fai questo? Ti prego, lasciami in pace. Non posso. Devo fermarti. Frecce splendenti. Perché? Mi dispiace. Non puoi vivere in una realtà che non è la realtà. Ah. Pare che tu abbia perso. Perché? Devi smetterla. Phoenix Senpai. No, non posso. Non posso tornare a essere Sumire. L'hai visto con i tuoi occhi, Phoenix Senpai. È colpa mia, sei mia sorella e... Perché non vuoi capire? Per favore, ti supplico. Yoshizawa-san. Yoshizawa-san. Devo prendere in mano la situazione, ora. No, per favore, il Tentacor Raid di nuovo, no! Ha forzato la sua persona. La sta riempiendo di un potere non suo. No, non vuoi. Invece. Sì. Allora, non vuoi capire. Non vuoi mai, non ho visto la sua sua scena. Ah, che? Non... Anche bene. Non è vero, non è vero. Ma nicht'errore. Non è vero. Non è vero! Vita di cenere perché ce n'è rentola, lei. Questo è uno scontro bellissimo Secondo me da parte mia Ti salverò Nell'unico modo che conosco Forzandole il suo potere Ha perso completamente il senno Dobbiamo fermare la sua persona Assorbe le altre entità per guadagnare vita Ha mangiato quello più piccolo Che seccatura Dobbiamo batterla prima che si curi di nuovo D'accordo allora Ribellati Akechi Se permetti Io la debilito anche Ah stronzo maledetto Bravo Akechi che l'ha evitato Vediamo Tu non sei probabilmente debole a nulla Tu invece Sei debole al ghiaccio Ma che buona notizia Satana Pensaci tu Quattrocento ha fatto così poco eh Vai tu Akechi Usa La ebiatan Quattrocento Potevi fare un po' di più Eccolo lì Lo sapevo Maruki Che l'avresti fatto Maledetto Glaciazione Se dovrò continuare a usare Satana Continuerò a farlo Allora Maruki Se non ti dispiace Mi concentro per il prossimo attacco Anzi Forse è meglio che mi carichi Tu Akechi Attaccala pure con quello che vuoi Duecento dieci Maruki hai rotto il cazzo di evocare eh Sappilo Maledizione Non c'è fine a tutto questo Ma cosa diavolo è Mi rifiuto di tornare indietro Non sarò mai più Più un patetico Su di ciò rifiuto Non riuscite a capirlo E il suo rifiuto Di accettare la verità Beh in realtà avrei potuto sconfiggerla Se avessi avuto un altro turno Non possiamo perdere tempo Con queste stronzate Ma senti un po' chi è arrivato Ha appena tankato Un attacco incredibile Il nostro best friend Maledizione Scal ti avevo detto di un gertarti nella mischia da solo Almeno sembra esserci dato un vantaggio Sapevo che sareste tornati Perdonaci se abbiamo fatto attendere a lungo Ma quello è Akechikune il dottor Maruki Yoshizawa è intrappolata da Perché la sua persona si comporta in quel modo? Che diavolo sta succedendo qui? Troppe cose qui non hanno senso Ma ci penseremo più tardi Innanzitutto dobbiamo fermare lei Giusto Joker? Esatto D'accordo Informazione Chi è che c'è in squadra quindi? Ok ragazzi Lasciate che vi guidi io Rispingiamoli Incredibile Perché sono qui? Bel colpo Allora Permettetemi allora Di alzarvi tutti quanti le statistiche Pensavo che non ce l'avessero Invece ce l'avevano Va bene Va bene estenderli anche Tu invece Continua a debilitare Tu Skull Caricati un attimo E ora Spray congelante Staffettiamo Ad Akechi Anche tu Spray congelante sull'altro Ed infine Staffetta su di noi Facciamo 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 Una glaciazione 1300 Poteva essere meglio Brava Futaba Oh Questo è buono E ora noi invece Ci concentriamo Anzi no Ci carichiamo Per il prossimo attacco Tu invece Megidolan Don't ask I'm ready Cause I'm ready Mano di Dio Ryuji 1600 Bravissimo Sembra funzionare Resistete ancora un po Morgana Tu ti chiedo Invece di fare Cambio Devi fare Cambio Con Yusuke Ci penso io Ho messo Yusuke Perché giustamente È di ghiaccio Per quello Quei 600 Non ti salveranno Mi dispiace Fuoco Di soppressione Quella carica Che danno Ah La sento Le campane Rintoccano La mezzanotte Ora è il mio sogno Non È stato un bello scontro Te lo concedo Maruki Yoshizawa San Voi tutti Non posso credere Che abbiate gettato via La vostra felicità Solo per venire Qui e Ma poi come È impossibile Lei è Il dottor Maruki Vero Esatto Ma soprattutto Perché Ragazzi Ma che cavolo Si fa il dottor Dentro un palazzo È il signore Di questo palazzo Ecco perché è qui Cosa Ma non solo È colui che ha generato Tutta questa realtà Distorta Dico bene Maruki-san Tutto questo È stato plasmato Per la vostra gioia Per la nostra gioia Esatto Volevo solo esaudire I desideri Di ognuno di voi Un momento Che cosa Che significa Non abbiamo mai desiderato Nulla di Ne sei proprio sicuro Eh No Non ha importanza Dunque avete intenzione Di gettare la realtà Che ho creato per voi Se volete combattermi Così sia Se volete risvegliarmi Il cuore Va bene lo stesso Ma prima di arrivare a tanto Credo che sia ancora A marge di discuterne Inoltre Ritengo che Prendersi cura Di Yoshizawa-san Si è più importante Di risolvere ora La questione Vuoi fuggire di nuovo Possiamo rimetterci A combattere Se vuoi Ma credo Siete piuttosto Esausti Al momento No No Però Eh Yoshizawa-san E Maruki scomparso C'è ancora tempo Il 3 febbraio È la data ultima In cui attenderò La vostra decisione finale Se per allora Le nostre opinioni Non si concilieranno Non avremo altra scelta Che combattere Per quanto lo detesti Non posso ancora rinunciare A ciò che ho iniziato A ciò che ho giurato Di fare Nel giorno in cui Ho perso tutto Ciò che era importante Per me Non lo rilevo più Vorrei inseguirlo Ma dubito Che sia ancora possibile Andiamocene da qui Yoshizawa Deve riposarsi In ogni caso Akeji Eh Non ha detto Una cosa stupida Per una volta Sono ancora sconvolto Come la prima volta Che siamo giunti qui Il navi è riapparso Sui nostri telefoni È un palazzo Visibile Nella nostra realtà Per questo Per questo Significa che la realtà Si è corrotta O una cosa così Ha comunque a che fare Con il dottor Maruki No? Ehi Phoenix Quanto ne sei già Di questa storia? Devo dirgli Cosa ho scoperto finora E questo è tutto Quindi il dottor Maruki Ha alterato La nostra realtà Per realizzare i nostri sogni È troppo da sopportare In una volta sola Scusate l'interruzione Mi spiace se intervengo Oh già Akeji Non c'è motivo Di stare sulla difensiva Se avessi voluto Uccidervi tutti L'avrei già fatto Akeji non è Il nostro nemico Quindi non sei qui Per combatterci Mi sono già lasciato La nostra Fai dalle spalle Ma non solo Visto che sia io Che lui Rifidiamo La realtà Desiderata Da Maruki Abbiamo un obiettivo Comune Quindi in poche parole Lo stai usando E voi che mi dite? Visto quando vi eravate Affezionati Le vostre esistenze Ideali Prima di decidere Di venire qui Maruki Sembrerebbe dire La verità Quando afferma Di tener conto Della vostra felicità Per quanto il suo cuore Si è distorto Non è come tutti Gli altri adulti Che avete risvegliato Ora che conoscete I suoi intenti Mi interesserebbe Molto capire Se volete ancora Combatterlo Che cosa intendi dire? Ho a che fare Con un individuo Col potere di distorcere La realtà Più alleati ho Meglio è Se il nostro obiettivo È lo stesso Non vi conviene Unire le forze E aumentare Le nostre chance Ora devo andare Vi prego di riflettere Su ciò che vi ho detto Ehi Ehi Diamine Yoshizawa Stai bene? Io Va tutto bene? Ah Sì Tra l'altro Quanto è piccola Mi stavo accorgendo Solo adesso Scusatemi Se vi ho Causato tutti questi guai No no Non hai bisogno Di scusarti Credo che ci convenga Separarci per adesso Riprendiamo la discussione In un momento migliore Già Domani possiamo Oh Già Domani inizia Il terzo quadrimestre Giusto Mi sa Che ci tocca Tornare a scuola Anche se non abbiamo Ancora idea Di cosa vogliamo fare Da qui in poi Abbiamo tempo Maruki ha detto Che attenderà Fino al 3 febbraio Quasi un mese Riflettiamoci bene Prima di prendere Una decisione Bene Salta nella borsa Morgana Miau Ehi Bentornati Oh Non avevo idea Che foste usciti insieme Un momento Che cosa non va Futaba Ehi Sojiro E' vero che mamma Mamma Intendi Wakaba Beh Che c'entra lei adesso Ah no Non è niente E che mi è capitato Di ripensare a lei Tutto qui Capisco Tutto a posto Allora Sai Anche io Prima mi sono ritrovato A pensare a lei Strana coincidenza Beh Beh Io me ne torno a casa Per stasera Tu Fa come vuoi Futaba Ah Penso che me ne starò qui Per un altro po' Va bene Ma non fare troppo tardi D'accordo Lascio tutto in mano a te Ricordati che anche tu Hai scuola domani Quindi vedi di andare a letto In un orario decente Certo La mamma è davvero Sparita di nuovo E anche per suo giro Lo stesso Ora Ah già Mi ero scordata di dirti Cosa è successo Prima che venissimo A salvarti Siamo arrivati tutti qui Nello stesso momento Dopo che sei uscito Per andare a Dobaida O Daiba Non Dobaida Come dici? Oddio Sei tornato Ma che Io Oh Già È vero Perché Eri umano Mona Già Dovresti essere un gatto Non sono Un momento Questo non corrisponde più Alla realtà Giusto Abbiamo fatto Non accorgerci Di nulla Abbiamo cose più importanti Da fare Che restare qui A raccapezzarci Su quello che ci è capitato Giusto Phoenix Hai detto che era diretto a Dobaida Giusto Assieme da Kechi Kun Dobbiamo trovarli Una volta giunti a Dobaida Abbiamo individuato il palazzo Il resto lo sai già Hai continuato a combattere Fino a ora Mentre io Girovagavo per la città Senza pensieri Scusami Sotto sotto Ho sempre sospettato Che ci fosse qualcosa di strano Di sbagliato Ma stare insieme a mia madre Ma stare insieme a mia madre Era così fantastico Che ho Smesso di tentare Di comprendere Ah ma Sono assolutamente Rinsavita Grazie a te Phoenix Ora sto bene È ok Se fa male Sì Non preoccuparti Ho accettato Che Le scarpe Futaba Domani c'è scuola Giusto Ti conviene non fare tardi Potresti Non sentire la sveglia Oh patata Ne abbiamo passate tante oggi Cerchiamo di dormire un po' Va bene Come? Hai qualcosa da dire? Sei di nuovo un gatto? Ehi Non infierire L'ho fatto per aiutarti Ok? Accidenti Tutti questi problemi Con Yoshizawa e Maroki Ora abbiamo solo seccature Per il momento Dobbiamo riunirci A ritrovo Dobbiamo fare il punto Con una riunione strategica Sto cercando di capire Questa situazione Ma Proprio non ci riesco Non riesco a ragionare Cosa? Come ti capisco? Anche io sono ancora Così confusa Comunque Credo che ci siamo meritati Un po' di riposo Forse dormirci su Ci aiuterà a calmarci Hai ragione Di certo anche il combattimento Ci ha sfiniti Ci farebbe comodo Un po' di tempo Per rilassarci Detto questo Notte Beh ci servirà del tempo Per capire la situazione Comunque dobbiamo pensarci domani Per adesso Dovremmo riposare È vero? Ah Come è potuto accadere A ogni modo Riposiamoci per stasera E riordiniamo i pensieri Vabbè Dobbiamo riposare allora Grazie a tutti ieri Grazie a tutti ieri